Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Avakin Perché faremo l'amore di routine Che ve l'avevo promesso Con la mia amica Alessia Adesso io vi devo dire una cosa molto importante Guardate la mia maglietta C'è scritto 50.000 iscritti E io non proprio 50.000 iscritti Però questa aveva degli iscritti Dunque dobbiamo arrivare a 100 iscritti Comunque ragazzi come vedete Io mi chiamo Amy Butterfly Io mi chiamo Alessiate Perché se mi volete seguire c'è tutto Queste sono tutte le mie cose I miei appartamenti Ok adesso faremo l'amore di routine A dopo Eccoci Desiree sta facendo i versi di uno scoiatto Ah sto dormendo Lasciami in pace Dobbiamo iniziare la morning routine Scena Lo so Dove scena Eccoci Ehi Alzati La prima cosa che facciamo durante la mattina E vestirsi Appunto perché Non ci vestiamo Rimaniamo puzzolesi E poi dobbiamo fare dopo la colazione Dopo che ovviamente ci vestiamo Esatto Allora io oggi ho intenzione di mettermi questa maglietta multicolor Io invece questi pantaloni e questa maglietta multicolor E poi delle scarpe Anzi questo è già batto dato che siamo in casa ragazzi Adesso vado indietro Ciao Dai forza muoviti Io sono pronta Ok Dopo la seconda Dobbiamo fare la colazione Esatto Ma prima io mi godo un po' 30 No Sono passati 30 minuti Andiamo via Allora Questo è il mio biscottino Che è un gatto Io vado a fare colazione Io vado a sciacquarmi un po' Tu vai a fare colazione Ok va bene Ah mia mia Ho finito Ok vieni a fare colazione Ma perché ti sei seduta? Eh no niente Quello del tavolo Gnam 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 Ragazzi è troppo buono Ok io vado a fare la doccia Tu manda Io vado al mare Ok E poi ti raggiungo Questa è la casa ragazzi Tutta così Che è sua la casa Vabbè sì E l'ho invitata a fare un film Cioè ma farti bellissimo Poi nel prossimo episodio Faremo la morning routine A casa mia Esatto Guardate io mi sto rilassando Nell'obrellone Nel mentre Mi metto la biancheria Mi metto il mio costumino Io pure mi metto la Metto il mio costume Che mi siedo un attimo qua Ok E mi metto il costume E io invece Mi tolgo le Trampoline Dei unicorni Perché ovviamente Lo sappiamo tutti Che è mia Questo È il mio costume Oh Eccoti qua Forza forza Che ne dici di tuffarci E fare il tuffa bomba Ok va bene Nel prossimo episodio Andremo a casa mia Che c'è il trampolino Dunque ci potremo tuffare Esatto Anche io ce l'ho una casa Col trampolino Però in questo video Non l'abbiamo fatto Vero? Sì Comunque è bellissimo Se si potesse andare sott'acqua Sarebbe meglio Eh già Guardate un po' Ragazzi Posso andare anche lì Cioè il massimo Che si può andare è qua Perché poi ci sono le bolle Eh sì Le bolle si Altra persona Ci sono gli squali Quindi è meglio di no Infatti qua ci sono tutte le palle Che ci possiamo sedere sopra Non so perché Questa cosa ha? Il picnic Che vedeva Ah ok Ehi Sì Aspetta Ragazzi Mi si è fatta una pubblicità di Abakin Ma io non voglio i soldi di Abakin Voglio curare un po' Biscottino Allora Aiuto Sto negando Ah Aiuto Devo subito salvarla Aiuto Aiuto Ti salvo io Ti salvo io Esci Ok Ti sto portando fuori Aiuto Ti sto portando fuori Ti sto portando fuori Eh grazie Mi hai salvato Oh Prego Ma come si sta portando fuori Io mi devo comprare i braccioli Sai com'è Facciamo le pere Io sono vero e benissimo Adesso mi vado ad asciugare in casa Arrivo Io mi vado a cambiare Invece faccio picnic Vuoi farlo anche tu? Sì Aspetta che mi levo il costume Guardate ragazzi E mirate Io voglio Un po' di arance Un po' di succo E un po' di altre cose Il tè Io voglio il tè E le arance Mmm che buono Eccomi Eccati qui Forza Mangiamo Mangiamo Ok Mmm buonissimo Aspetta Ma Vabbè dai Sì Sì Vabbè Io quando Mangio Ficca l'ultima Voglio tuffarmi Tuffarmi Tuffa Guardatemi Guardatemi Sorpresa Guardate la mia facciotta Povera Dai ti aiuto io Vieni Grazie Dai Secondo me Andando a fare Andando a riposarci un po' Nei divani Ti passerà subito Il male Ok Ah che bei divani Io vado nei divani Dai balconi Che ci sono gli ombrelloni Ok Allora vengo pure io Mmm è bello rilassarsi sotto l'ombrellone Eh sì Ah che bello La nostra giornata però è conclusa Dunque dobbiamo andare a letto Esatto Io mi metto il pigiama Ok Allora vado Tutti A stai Vado sui vestiti E mi metto il mio pigiamino Oggi mi metto quello nuovo Il pigiama Io invece metto tutte le serie questo Ah E metto pure i calzini Ok Io invece senza calzini Perché Ho caldo Ok Buonanotte Buonanotte Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi E ci vediamo al prossimo video Ciao